Proprio come i supereroi dei fumetti si calano dall'alto, sono dotati di superpoteri, beniamini e idoli dei più piccoli che li aspettano quando toccano terra. Non capita spesso di vederli dal vivo. L'occasione è accorato, istituto Tattoli de Gasperi. È una onlus la loro. Di solito si esibiscono in favore dei piccoli pazienti ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, questa volta in missione speciale. Una delle più belle missioni per un supereroe. Sì, i bambini, la loro energia ti pervade e quindi un'emozione unica. Una bella missione oggi. Che associazione è la vostra? La SEA, i supereroi acrobatici e portiamo, calandoci dalle strutture ospedaliere pediatriche, il sorriso ai bambini. È un momento di leggerezza ai loro genitori. Questa non si fa per un sorriso di un bambino? Qualunque cosa, si vince anche questa paura. La foto con l'uomo ragno Iron Man sono di rito. I bambini sognano. Per un giorno i supereroi sono in carne e ossa. Non siamo un ospedale, ma doniamo ugualmente amore e affetto. Curiamo comunque le anime e le menti dei bambini. Per cui grazie, grazie infinite all'associazione che ha accolto il nostro invito qui quest'oggi in occasione della settimana della disabilità. Grazie a tutti.